sono venuto in un posto che ci sono i pesci ma ti tocca pescare come uno stronzo perché non ci stai dentro con la canna pieno di carassi ci sono anche dei cavedanoni però bisogna fare tre passaggi per prendere un pesce una volta che lo prende di strisciarlo di qua e farlo passare in mezzo alle piane poi rimettere giù la canna e farli passare questo è proprio piccolo il fare giù si alzare il filo e passare sotto le piante è una pesca di nicchia una pesca di minchia proprio devi strisciare di qua perché se no non ci stai dentro con la canna poi attacchi dentro dappertutto devi abbassare la canna eccola qua del carassi e quindi un po' un po' un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti. Guarda se uno deve pescare in queste condizioni qua. C'è qui una carpeta. Guarda qua. Carpettine. Ripassare sotto tutto la piana. Passaggio sotto. Questa volta è un persico sole. È un pezzo sole. Guarda qua. Guarda qua. E' un po' più enorme. ecco la carpottina, eccola qua ragazzi una bella carpottina, fa la brava ecco la parma la mia delle ponte qua come rompono i coglioni ragazzi la mia delle ponte la mia delle ponte la mia delle ponte La mia delle ponte è rilassato La pelle grazie Il carassi, il carassi. e il carassi, il ventos, si, fa' le cuore. Il va bene? Il va bene? bellina una carpettina piccola e va bene da faro il pipo Grazie a tutti. Un altro gordo. Un altro uovo. 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 uovo. Un altro 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 uovo. sono quelli belli, non sai cosa ce n'è sotto. Anche quel fossato lì, te non l'hai visto, vedendo questo fossato che c'è qui. Ho visto, non l'ho guardato. Sono arrivata lì, erano in frega, c'era la moglie di Merigi che è andato tutto bene, però li hanno tirato via. Va bene Laura, va bene così, salve, salve. Una carpettina. È arrivato il corso di 15 giorni. Monta, monta, monta. Guarda che bel caro sotto. c'è proprio i pesci gattini a nuvola che venivano su li vedi girare sono passati in mezzo con il carasso adesso sono spariti è proprio una nuvola di pesci gattini micro vuol dire che ti lascia in noi ostia ho parlato ancora parla di nuovo quante esche ragazzi qua per il giuseppe passaggio di cana sotto è tutto un lavorare qua il casino qua lo sono spostato la carpeta questa carpeta la carpeta è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.